Ciao a tutti, oggi il 25 novembre in occasione della giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, puntata speciale del Magic Loot Show, siamo in una delle isole più belle in assoluto di Second Life, siamo a Museum Island, orgoglio della community italiana, avremo l'onore di aprire la manifestazione Second Lei, giunta alla undicesima edizione, ospite d'onore, Selvaggia, nome di fantasia, lei è una vittima di violenze, la cui storia sfortunata è stata raccontata nel libro di Simonetta Peci, Trasmigrazioni, Albero Niro Editore, ci sarà la lettura di uno stralcio di questa storia e poi ampio spazio al dibattito col pubblico come da tradizione. Un saluto ai telespettatori di Sharing TV che ci vedranno sul canale 154 del Digitale Terrestre Nazionale, da Museum Island, per ora è tutto da Magic Flute.